Gruppo H Danimarca in cima con Slovenia con questa vittori Danimarca, si ritrova prima uno sui Finlande i L portiere Joronen che sono agganciati a 12 dal sorprendente Kazakistan. Vittorioso in casa 10 contro L Irlanda del Nord. La selezione di Michael O'Neill rimane 3 punti davanti solo a San Marino. Battuto 40 casa dalla Slovenia. Che ora è prima in classifica insieme ai danesi nel raggruppamento ababilizzato. In cui persino la differenza di reti potrebbe fare la differenza. Kazakistan Northern Ireland 10 Chronicle. Statistics and Report San Marino Slovenia 04 Chronicle. Statistics and Report Gruppo B Vinci dell'Olanda e della Grecia, nel gruppo B dominato dalla Francia. Goleada della Grecia 50 in casa contro Gibilterra, grazie alla rete Pelkas e alle parentesi graffe. Di Mavropanos e Masoras. Gli ellenici salgono a 9 punti come l'Olanda. Che passa per un ritorno a Dublino in Irlanda. Immediatamente sotto per la sanzione concessa per un tocco con il braccio di Van Day che trasformatò di Aida. L'arancione ha annullato il risultato con un'altra penalità. Trasformata da Gapko e conquistata dagli interista Dumfries che servono l'assistenza del sorpasso in Vegors. Among the Olandese nell'Olandese o l'interno dell'Olandese nell'altra seconda metà il milanista. Reinders e Atalantino Cup Miners. Gruppo G Serbia e Montenegro bene nella guigie vittoria in Lituania per la Serbia che raggiunge. Così i leader ungheresi a 10. F-A-T-T-O-R-O-V-I-C-Tervi nel primo tempo che si chiude con la rete di Paolauskas con cui i lituani. Abbreviano le distanze ma in vano. Perché nella seconda metà il risultato non cambia più. Per i serbi nel campo Milenkovic della Fiorentina. L'ex Lazio Sergei Milkinkovic Savic suo fratello Vania tra i post dei post. L'altro torinista Ilico poi in finale anche Samarzic Vlaovic Udinesi. Il Montenegro del Lazio full. Bek Maruzic. Che passa davanti al resto con capitano l'ex Fiorentina Savic rimane in Serbia. 59 quando Vujacic. Prende secondo giallo per un fallo di rigore. Ma a 78 è occupato dalla Bulgaria che trova 78 con Borukov. Montenegro Bulgaria 21 Chronicle. Statistics and Report Gruppo e la Polonia cade in Albania. Moldavia ok nel gruppo nella Polonia Lewandowski, Logielinski Napolitano sono nei guai. Il proprietario come Empolese Berezinski il portiere Scesni. 20 battuto in Albania Penult in cima alla cima con 10 con 10 punti, ora ci sono gli albanesi. Che grazie a una palla balistica di Asani mangia l'obiettivo d'Aku salire a 2 sulla Repubblica Ceca. Ora secondo non solo. I cecchi sono in realtà agganciati dalla Moldavia. Victorious on Measure sul campo delle Isole Faroe, grazie alla rete firmata dal Capitano Rata. Isole Faroe Moldavia 01 Chronicle. Statistics and Report.